La settimana Sanremese è finita. E cosa ci siamo portati a casa? Scandali pubblicitari, fischi, razzismo per e contro gli italiani, messaggi di pace che sono il pane di manifestazioni come Miss Italia e Affini, ricordate il film Miss Detective con Sandra Bullock e perfino commenti di preti. Quindi possiamo dire che è stato, anche questo, un grande Sanremo per Amadaus. Il festival della canzone italiana esiste da ben 74 edizioni, ma è stato il primo che noi abbiamo seguito assiduamente. Forse il fatto che l'età media dei cantanti in gara sia molto calata negli ultimi anni ha fatto sì che ci fosse maggior coinvolgimento anche da parte nostra. È il chiaro che nutriamo molto rispetto per Loredana Bertè, a cui le facciamo i complimenti per il suo riconoscimento più che meritato, anche se a noi è piaciuta più la canzone Cosa ti aspetti da me, specialmente nella versione con Irene Grandi, o per i ricchi e poveri, ma è giusto che il palco di questo festival dia più spazio ai giovani. Cantanti contemporanei che, oramai, sempre più spesso, sono poco passati in tv e alle radio, ma spopolano nei canali prettamente digitali. Però non vogliamo parlare di questo, ma di tutto quello che è stato a contorno. Il Festival di Sanremo 2024 ha avuto dei momenti molto belli e altri meno. Tra gli aspetti positivi, possiamo ricordare l'omaggio a Toto Cutugno, scomparso lo scorso agosto, con la sua esibizione del 1990 accompagnata dall'orchestra, l'esibizione di Darjean D'Amico che, con la sua. Cantanti contemporanei che, oramai, sempre più spesso, sono poco passati in tv e alle radio, ma spopolano nei canali prettamente digitali. Però non vogliamo parlare di questo, ma di tutto quello che è stato a contorno. Il Festival di Sanremo 2024 ha avuto dei momenti molto belli e altri meno. Tra gli aspetti positivi, possiamo ricordare l'omaggio a Toto Cutugno, scomparso lo scorso agosto, con la sua esibizione del 1990 accompagnata dall'orchestra, l'esibizione di Darjean D'Amico che, con la sua. Onda alta, ha potuto parlare di un tema quanto mai contemporaneo, ovvero di migrazioni e solidarietà. La vittoria è di Angelina Mango, che ha commosso l'Ariston con il brano del padre, ed ha reso, per noi, divertente e mai sgraziate, le esibizioni del suo brano La Noia, anche quando è caduta. Il suo chiedere scuse in modo così naturale e sincero ci ha fatto ancora più apprezzare la sua persona. Tra gli aspetti negativi, invece, possiamo citare il ballo del Quaco ha fatto da John Travolta, non per. La polemica che ne è nata, ovviamente, come non citare la pubblicità occulta sempre di travolta. I fischi per Geolier, vincitore della serata delle cover, che hanno dimostrato il dissenso del pubblico verso la sua interpretazione dell'italiano di Toto Cutugno, i disservizi del televoto che sono inaccettabili. Le polemiche intorno a Gali e alla sua frase stop al genocidio. Di questi punti che noi abbiamo elencato, ma che sicuramente non sono esaustivi per tutti, vogliamo parlare nello specifico di ciò che riguarda le polemiche intorno al cantante Geolier. Quisti è stato uno dei protagonisti più controversi del Festival di Sanremo 2024. Il rapper napoletano ha suscitato diverse polemiche per il suo stile, il suo testo e il suo risultato. Ecco alcuni dei motivi. Il testo in napoletano è scritto male, la sua vittoria nella serata delle cover, in cui ha interpretato l'italiano di Toto Cutugno e, dato che questa canzone viene considerata uno dei simboli della canzone italiana, è stata accolta dai fischi della platea dell'Ariston a causa della reinterpretazione della melodia originale. Ed infine, la sua sconfitta, nonostante potremmo dire che abbia avuto un plebiscito dal televoto, raggiungendo un 60% di preferenze, nonostante i disservizi che ha messo, secondo i suoi fan, in evidenza un bocottaggio da parte della stampa e delle radio, in favore di un nome illustre, ovvero Mango. Ha addirittura smosso la sensibilità di Don Ambrogio, un prete veronese che ha un canale. TikTok, che ha addirittura invocato una mentalità mafiosa. Queste sono solo alcune delle polemiche che hanno coinvolto Geolia al Festival di Sanremo 2024 e che noi vogliamo portare alla vostra attenzione. Ora, noi non siamo ferrati sull'argomento Festival di Sanremo, ma se andiamo a guardare gli anni passati, vediamo già altri artisti napoletani presentarsi in gara con canzoni in dialetto. Abbiamo trovato Maurisa Laurito, Nino D'Angelo, Maria Nazionale, Renato Carosone e Roberto Murolo, Peppino Di Capri, Lina Sastri. Insomma, di cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo con una canzone in dialetto napoletano, nella storia della Kermess ce ne sono stati molti. Ma alle canzoni in napoletano non vogliamo anche aggiungere Spunta la luna dal monte, che arrivò quinta, e da parti del testo in sardo. Quindi, perché quest'anno è diverso da tutti i casi appena citati? Solo perché siamo diventati tutti più cattivi e razzisti? Perché a questo punto, se la canzone in dialetto non è una novità del 2024, perché si è creato tutto questo scandalo? Addirittura, un prete vi entra con mani e piedi nella predica. È il vero che i preti sono abituali a fare le omelie, ma a nostro parere, questo è un caso dove la Chiesa, che per ora non si è dissociata dalle affermazioni di uno dei suoi rappresentanti, poteva evitare di usare la parola mafiosa o perché, da più parti, ha innescato il classico pensiero che un veronese, o comunque un italiano del nord, associa automaticamente un napoletano, o una persona del sud, alla criminalità. Alle volte ci domandiamo, ma siamo nel 2024 o nell'anno 24 d.C. Ad ogni modo, facciamo i complimenti ad Angelina per la sua vittoria, ma anche ad Anna Lisa. Loro due erano le nostre preferite fin dalla fine della prima serata, insieme a Hirama e a Mahmood, perché anche lei ha una bellissima voce e ottime doti canore, potrebbe cantare, senza stonare, anche senza autotune a differenza di... tanti altri che non potrebbero esibirsi in altro modo. Voi cosa ne pensate su questo ultimo festival di Sanremo e su quello che abbiamo detto? Quale canzone avete preferito? Piccola nota a margine per Don Ambrogio, Gioliet, che non è tra i nostri preferiti, lo vogliamo sottolineare. Con la sua canzone, ad oggi, è al secondo posto nella classifica italiana su Spotify e primo nella sezione Tendenze per la musica su YouTube, quindi piace a più di un italiano.